Venerdì 12 maggio alle 19 appuntamento al bocciodromo comunale di Cremona per la seconda edizione di una gara di bocce benefica e molto particolare. Tutte le massime autorità politiche, religiose e sportive si sfideranno in una competizione a favore di Aido. A parlarcene l'organizzatore Antonio Viola. Il 12 maggio, che è un venerdì, che questa data me l'ha dato il Vescovo perché in maggio mi ha detto che è trapieno di cresime e comincerà alle 19 perché non è più a coppie come l'anno scorso ma a Terni perché inseriamo dei bambini della scuola di bocce. Per l'Aido, per l'associazione Donatori Organi, ci sarà il campione del mondo di ciclismo dei disabili, tante personalità della politica. L'anno scorso l'ho fatta per dei bambini handicappati della Cadoro di Vialitta, bambini proprio che sono handicappati al 100% e l'anno scorso il Vescovo è stata la prima cosa che ha visitato quando l'han fatto Vescovo a Cremona. Allora, facendola l'anno scorso che mi è riuscito benissimo, il Vescovo e il sindaco Galimberti mi hanno detto mi raccomando non finirla qui, ripetila perché è stata un'idea stupenda, meravigliosa. Speriamo che vado bene, io me lo auguro perché l'impegno è grande, perché girare tutti questi uffici con queste personalità però ho avuto una soddisfazione incredibile. Non pensavo di trovare gente disponibile, gente alla portata proprio perché veramente l'anno scorso sono rimasto contentissimo e adesso mi sto, come l'anno scorso... Attivando perché c'è lo stesso. Certo, perché vada in porto e nessuno mi ha detto di no, anche quest'anno speriamo. Grazie. Grazie.